ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di le creazioni di riri oggi faccio le sezioni del giveaway su random comment picker lo faccio vedere ok bisogna ops no bisogna incollare l'urla del video e farlo partire ora carica questo parla da solo allora la vincitrice è creation kawaii allora vediamo se ha messo il mi piace e i commenti allora andiamo su tutti i commenti e cerchiamo com'è che si chiama già io mi sono perso scusami creation kawaii creation kawaii mi ha scritto uno con partecipo due tre perfetto bene allora creation kawaii mi ha anche seguito su instagram se non sbaglio perciò complimenti hai vinto sono veramente contenta per te scrivimi in privato e così appunto potrò inviarti potrò inviarti appunto tutto il pacco se entro due giorni cioè se entro il cinque non mi avrei scritto ne cercherò un'altra il video è finito è stato breve ma appunto volevo soltanto parlarvi di questo vi saluto vi mando un grosso bacio e al prossimo video ciao